Era prevista nel 2020 la fine dei lavori per costruire la nuova scuola di Contrada Mascione, istituto demolito nel 2016 dopo le indagini di vulnerabilità sismica dell'Università del Molise. Restano incerti i tempi per la conclusione dell'opera di ricostruzione della struttura antisismica. L'amministrazione comunale ha dovuto presentare all'impresa che si era giudicato i lavori, il consorzio stabile BILT, una nuova proposta progettuale dopo l'aumento dei costi legato al preziario regionale delle opere edili e dei rincari. Per costruire il nuovo edificio scolastico serviranno 1,8 milioni di euro a dispetto dell'importo iniziale di circa 1 milione e 200 mila euro. Dettagli e novità fornite ieri pomeriggio durante la commissione lavori pubblici dal sindaco di Campobasso Roberto Gravina. È una storia purtroppo lunga, travagliata perché di perizie di variante ce ne sono state sul piatto più o meno tre. quest'ultima bozza cerca di rispettare la norma di legge, non potremmo fare diversamente, fa lievitare di molto l'intervento, quindi arriviamo quasi al 50% in più, praticamente assorbiamo tutto quello che è consentito dalla legge e cerchiamo di tenere conto di una serie di rimostranze avanzate dall'impresa e soprattutto di conservare quella che è la funzionalità piena. Si è tenuto conto del prezziario e in generale si è riparametrato una serie di lavorazioni che adesso dovrebbero rientrare nel valore che le avevo a poc'anzi accennato. Sui tempi, sindaco, l'inizio dei lavori è più o meno azzardabile? Nel 2024 Contradamascione avrà la scuola? Guardi, tenendo conto di quello che è già attualmente realizzato, se i lavori dovessero riprendere subito, quindi ci lavoriamo nell'arco di poco, certo che sì. Alcune volte ci sono delle opere che nascono male sin dal progetto e finiscono peggio, quindi adesso speriamo davvero che riusciamo a trovare una quadra nell'interesse di tutti. Opposizioni sulle barricate dopo l'ulteriore slettamento dei tempi per la scuola di Contradamascione, area del capoluogo in cui risiedono circa 2.000 cittadini, ma anche i referenti dell'Associazione Nuova Scuola di Mascione, che stanno lottando per la riapertura della scuola, speravano di ricevere notizie diverse dalla Commissione. Noi speriamo che questa variante sia approvata e quindi successivamente dovranno riprendere i lavori, la nostra speranza è quella. La vostra è una battaglia, quella dell'Associazione Nuova Scuola di Mascione, perché? È una battaglia civica, mi permetto di dire, dove tutti crediamo in questa cosa e faccio mio quello che è un principio dato da un antropologo romano che parla non più di resilienza, ma di restanza. Noi vogliamo restare in un posto perché ci siamo legati. È un punto molto importante di aggregazione effettivamente. Lo è stato per noi che siamo andati a quella scuola, per i nostri figli.